Nuova manifestazione da parte dei Writers, coloro i quali imbrattano le mura della città, qui nella storica piazza Plebiscito di Napoli, ma soprattutto dinnanzi, come potete vedere alle mie spalle, alle colonne della storica chiesa di San Francesco di Paola. Vediamo allora i napoletani come interpretano questi atti deprecabili. Per me è da cancellare assolutamente, facciamo tanto per tenerla pulita, anche questa è è un'abbruttura, assolutamente. Lei sa che c'è un provvedimento in atto per questi? L'ho sentito questo fatto, l'ho sentito. Che cosa ne pensano? Ma è una cosa, per me è vergognosa, per me è giusto che sia così. È giusto punirli? Assolutamente sì. Per me questa gente va punita perché sono degli esaltati, perché loro che cosa vogliono dimostrare con questo, il contrario di quello che pensano loro, ma comunque non è il caso di fare, perché comunque danneggiano la città. Ha cambiato colore, ha cambiato espressione proprio questa piazza? Ormai sì, sembra... è coloratissima, non è più una cosa seria come lo verrà stata fatta una volta. Penso che sia una vergogna perché comunque diciamo... c'è una piazza storica come Piazza Rebiscito, penso che sia una rovina questo fatto e credo che diciamo... c'è il sindaco e le istituzioni se ne fregano di queste cose. Dovrebbero essere puniti questi Freighters, quelli che imbrattano i muri? Sì, dovrebbero essere puniti loro e bisogna diciamo che Napoli non sia abbandonata e che sia più rispettata.